Dopo anni di degrado e abbandono, gli antichi vascelli della Tonnara di Bonagia si preparano adesso a vivere una nuova vita, questa volta come reperti di archeologia industriale musealizzati sul posto con sistemi di protezione dalle intemperi marine, creando così una nuova offerta turistica per la zona del lago ericino. La flotta, che fu di Rais e Tonnaroti, una volta ristrutturata, sarà messa in rete circuito con il Museo della Torre della Tonnara, aperto di recente e gestito dalla Proloco di Valderice e dall'Associazione Salviamo le Tonnare, da anni impegnata sul fronte della valorizzazione del patrimonio storico e culturale, a partire proprio dai vecchi vascelli, che saranno ristrutturati e valorizzati grazie ad un intervento previsto nel flag Torri e Tonnare del litorale trapanese nell'ambito del piano di azione locale che è stato presentato ieri al Molino Excelsior. A fare gli onori di casa il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, che si è soffermato proprio sulla grande opportunità per il territorio data dal recupero delle muciare. Noi come Comune di Valderice abbiamo puntato sulla importante progettualità del recupero e della mutualizzazione delle tonnare di Bonagia, da cui se ne parla da parecchio tempo. L'obiettivo comune è quello di valorizzare questi posti e non soltanto di recuperare quelle che sono le antiche imbarcazioni, ma di recuperare quella che è la risorsa mare. Quindi quando dico risorsa mare intendo anche la fascia costiera che parte da Trapani e arriva fino a San Vito Lo Capo. Siamo in una fase molto avanzata. Abbiamo già predisposto il progetto preliminare per quanto riguarda il recupero di queste imbarcazioni. Stiamo definendo l'iter amministrativo del progetto. Abbiamo ricevuto il finanziamento da parte del flag Torri e Tornare Trapanesi. Siamo quindi proprio in linea di partenza per avviare questa importante progettualità che nel contesto di Bonagia e in questo borgo marinaro che vogliamo che ritorni a risplendere possa, secondo me, poter dare veramente un impulso diverso a questo territorio. L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un progetto portato avanti dall'amministrazione comunale Valdericina per la valorizzazione del borgo marinaro di Bonagia, dove nei prossimi giorni e per tutto il periodo estivo scatterà la chiusura al traffico dalle 20 a mezzanotte del lungomare della Tornara, che diventerà così una grande isola pedonale, andandosi ad aggiungere allo slargo antistante la torre, che in questi anni ha cambiato volto, diventando un punto molto frequentato anche per quel che riguarda la movida. L'obiettivo è sicuramente quello di valorizzare questo borgo marinaro di Bonagia e renderlo un po' più appetibile non soltanto agli abitanti di Valderic o di Bonagia stesso, ma anche ai turisti che possano venire a visitare i nostri luoghi. Devo dire che anche i commercianti, chi ha voluto investire in questo territorio, in questo periodo ha innalzato un attimino anche il livello di quella che possono essere la loro presenza sul territorio. Abbiamo già due attività commerciali che stanno iniziando anche a migliorare un attimino quella che è la loro espressione sul territorio e quindi siamo contenti di tutto ciò. Nei giorni scorsi abbiamo incontrato le attività commerciali che insistono proprio lì a Bonagia, lungo la strada via del mare, per capire se ci sono le condizioni, perché questa è la nostra volontà, quella di chiudere la strada a transito dalle 20 alle 24, proprio per rendere il borgo marinario di Bonagia un posto dove la gente può passeggiare e renderlo veramente operativo e un momento anche di relax per tutte le persone che possono visitare questi posti.